Volevo salutare la redazione di Tutto Juve e la ringrazio per comunque avermi concesso di venire in questa trasmissione. La trasmissione da Juventus perché non dovrebbero concedere? Volevo salutare tutti i miei colleghi di Sprint e Sport, quanto io scrivo anche sul giornale che comunque tratta prevalentemente di andare a vedere, osservare da vicino i campionati giovanili, esordienti, allievi eccetera e soprattutto volevo salutare tutti i juventini che ci stanno guardando da casa. E ce ne riguardano in tantissime perché vedo soltanto la nuova.